Bologna centrale per una porta nuova, la prima classe testa al treno. Bologna centrale per una porta nuova, la prima classe testa al treno. Il treno regionale 2676 di Trenitalia. Delle ore 15.08 per Bracciano partirà dal binario 4 invece che dal binario 2. Attenzione per l'assenso ai 3 di alta velocità. Bologna centrale per una porta nuova, la prima classe testa al treno. Bologna centrale per una porta nuova, la prima classe testa al treno. Bologna centrale per una porta nuova, la prima classe testa al treno. Bologna centrale per una porta nuova, la prima classe testa al treno. Bologna centrale per una porta nuova, la prima classe testa al treno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.